sì ma poi vabbè il cavolo è che sta questo cacchio di uccello di merda che ci lancia le cose che non ci dà il tempo le pietre va sì vabbè mamma non ci sta se tu vedi ma tu dove sta alla zattera no e allora io sto andando alla zavina la zattera e poi non viene più con la merda poi che mo sta con la zombie coglioni e che mo uccido io così per prendere questi due pezzi ma questo l'hai ucciso l'altro scuola mo che se ricorda io l'ho ucciso uno di scuola quando siamo appena siamo arrivati su quest'isola e questo sarà l'altro comunque ho trovato una caverna sotto l'acqua allora io vado a prendere quell'altro quella tra legna che stanno che sta agli alberi qui ok adesso mi sono rifatto la facendo raccogli i semi del fiore blu ma che cacchio me ne frega a me al fiore blu questi sono simili all'albero delle banana ma perché non crescono sulle isole chissà se hanno tolto quel difetto che faceva che tu piantavi un seme di fragola e poi quando usciva la fragola se no ti dava un seme quindi non la potevi mai moltiplicare chissà se hanno tolto quel fatto non ho tolto un cazzo cavolo la fragola c'ha 8000 semi e quelli da una fragola non non riescono a tolto di 6 mamma mia quanto cocco cocco bello cocco bello sono finito nell'altra parte dell'isola la cacchia sta la zattera cosa buona che lo squalo non può venirci a rompere le scatole con tutta quest'isola vedere che lo trovo io no sta vicino a me e tu che ne sai io dove sto questo fondale è proprio stupido cioè non c'è lo spazio per comunque oltre all'arco adesso devo dobbiamo ricordarci che dobbiamo fare l'abbraccio quella gigante ma che faccio la zattera faccio quella faccio l'arco il pesce palla e cazzaruola provato a ucciderlo con la lancia speriamo che muore subito no non esplodere no porca miseria ladra ma fatti le cose scusa fattelo aspetta che non è esploso gli ho dato già un colpo è che quello che è veloce a inseguirmi a ok libera per libro aperto io lo vedo pure un altro aspetta se stai vicino a me non lo prendere sto andando lì vieni bello domani feste lo stavio ci quando stanno due quindi possiamo cercare di fare pure il retino comunque il retino lo facciamo senza il pesce palla servono le munizioni che ti dà il pesce palla no cazzo il mio esploso vaffangolpa e vieni qua dove sto io che c'è da un altro ma va bene ma questo è troppo veloce però cioè non fa in tempo ad arretrare ho visto la zattera sì ma ecco perché ti devi fare le frecce mannaggia a te e vabbè ma se io non sto sulla sulla ma vieni prima sulla zattera e sto arrivando scusa hai sprecato il pesce palla se ma sai quanti ne troveremo capito ma potevamo cercare di fare scusami ma io ti voglio dire una cosa dopo che noi abbiamo il pesce palla e le munizioni do cacchio devi mettere il coso che non c'è il terreno non c'è un cacchio di niente quindi che cacchio lo prendi a fare ora a squalo di merda questo è pure vero e quindi c'è un buon poco alla volta per le cose ho fatto l'altro baule qui bisogna pure sistemare perché c'è un casino allora io cerco di fare la allora andiamo ce n'è perché tanto non possiamo fare niente perché non abbiamo lo spazio adesso era meno riuscire quel pesce palco si già lo sblocchiamo così poi se poi facciamo già le munizioni scusa allora arco d'accordo arca miseria o corda cordana con la sua quella questa con la pietra dall'asta e nello scelto c2 scuola traccia pc cosa ce l'ho e la tra corda ok l'arco l'ho creato ora devo creare le frecce le frecce stanno qui le pietre ce ne abbiamo quando ne vogliamo come sarà la plastica serve serve la plastica per fare le frecce voi io non lo so da dove cacchio la mente la plastica nel è ucciso altro scuolo abbiamo dodici frecce vabbè basta ma scolucci con di copse ne vanno che vieni con me che solito resta apposto non si vede più un cacchio e vieni d'acqua qua vedi gira gira aspetta 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 che devo mangiare acqua pena di squadra mettiamo pure l'altro scuola a cuocere intanto tu vedi se riesce a fare tieni i lingotti vedi se la riesci a fare tu la braccia ok tieni i lingotti e qui ci sono gli altri cosi da sciogliere ok allora fammi mettere le teste dello scuola a posto va questi semini di merda che adesso non ci servono però poi ci serviranno o dove cavolo sta il baule sono sei squad che abbiamo ucciso allora dove è stata questa parte ma non ci vede niente dove stai mi vedi sono amato no dall'altro lato è sì quello sta dove stanno i fondali e l'asta l'ho visto io escusa non mi fa sempre i coglioni però eccolo ma adesso ti devo uscire speriamo che non vieni quel cagazzo di squalo vieni bello vieni vieni 1 2 3 4 sei morto se sei morto brutto e vai una melma esplosiva mouse è sforzato bro a due melme vai mette a sciogliere uno basta un casino qua nel campo ma ce ne possiamo mandare cerca tu di sistemare visto che siamo nella tua partita sistemato bravo ce l'hai fatta per questo così finalmente non stiamo a fare una volta allo vi servare anche dove allargare la pasta legna l'hai presa tu già hai messo nel baule questo questo è appunto 7 squadrono ci si ama me sai quando è ancora devono venire per capire che non devono rompere le palle fai facciamo così a meno a cuocere la melma esplosiva madonna mia che palla allora facciamo cose cioè abbiamo proprio il cocco illimitato beh mamma le casse non le posso togliere se no perdiamo tutto no non le togliere le casse questo può togliere la braccia piccola perchè non c'è la grossa quando ingrandiamo si può metterlo ok allora polvere esplosiva hai tolto il tavolo da lavoro che adesso doveva vabbè quando lo posizioni basta che mi avvisi è ritornato lo suo ma venga durassai la sua assenza ah sta qua si l'ho vista devo raccogliere la botte no ma che palla che dobbiamo sprecare un cacchio di coso allora il lanciarete lo possiamo già fare allora mi allarco un po' così bravo che cazzo già finito lo scuolo più tempo che c'ha le foglie sì tieni ne ho troppe tieni questo io faccio i rating ma ho troppe due ma sei sicuro che non stanno nei cassetti perchè mi sa che l'ho visti le cose da sciogliere me le prendo io così le sciolgo ogni volta nel senso che ce le teniamo nei cassetti allora mi mostro la plastica il ferro dove l'hai messo un'altra isola tanto ci possiamo fermare quante volte vogliamo tanto ci do che cosa i costi di ferro da sciogliere sì ah ok servono sempre le cose che noi abbiamo cioè ci manca proprio il materiale per fare un euro corso un passo di coltivazione degli alberi sì quello lo dobbiamo fare che almeno ci abbiamo una cosa di scorta di legna guarda quante cazzate che possiamo fare lanterna no non ce l'avevamo scaffare tavoli ma che cazzo me ne frega a me di sto tavolo di merda sto largando lo zio eh tieni tieni sì però magari tacqui la plastica uno però magari non te l'ho fatti tutto tu lo squalo eh te l'ho ucciso io lo zio ma perché io non ucciso nessuno squalo no oh fermati cazzo ma non mi dico che ci stavo scagliando contro l'isola no non vedi perché sta qua sta cazzo di cosa ma dove sta dove sei vieni vieni che adesso ci facciamo l'ottavo squalo poi dici che le scuole sono in mia destinzione grazie no coglioni ma dove cazzo sta lo scuole sta sotto sotto sta venendo verso di te e salta come un coglione coglione grazie però che avevo detto oh io ti ho detto sta sotto di te e vieni ma oh è che cosa fa secondo te qua c'è rame ferro da prendere e appunto quindi uccidiamolo subito sto stronzo e porca miseria oh sta pioggia di merda dai che sei morto dai che sei morto vaffan cuore oh ma quante cazzo di cappelli quante cazzo di cappelli vai ferro a go go quando ho pioce dove riempirla fa riempire ma mi sa che si riempia no eh vabbè però quando piove innappia le foglie cioè innappia le colture il terreno come cazzo oh tu vai sott'acqua come lo do io sopra si si fai se trovi una grotta ma non andare a metà a prendere il pit e murdo fa l'altra ascia ma non c'è la puttana allora per farla c'è mi serve la pietra ah ti lo faccio con il di ferro rottami due